... Arrivano i vigili del fuoco in elicottero a portare viveri medicinali alle popolazioni isolate a causa della neve e nelle frazioni del Terramano. Sono soprattutto anziani che hanno bisogno di beni di prima necessità, pane, latte, zucchero e medicine che vanno via come il pane quotidiano. Si calano dall'alto come marziani ma sono umanissimi eroi di ogni giorno che non si risparmiano soprattutto in casi di emergenza. E quella di Castellana che vediamo nelle immagini drammatiche e spettacolari allo stesso tempo è una delle tante emergenze che vive la popolazione delle numerose contrade nel Terramano. Ci sono anche anziani che hanno bisogno di essere ricoverati perché non possono essere lasciati soli e allora i vigili li imbracano e li portano con loro in volo verso un posto caldo e sicuro. Grazie a tutti.